I relatori che sono Maria Grazia D'Amelio e Lorenzo Griego, ambe due lavorano dentro l'Università di Tor Vergata nella Facoltà di Ingegneria. Anche gli studi di Maria Grazia vertono un po' su questo rapporto tra ingegneria, architettura e arte. E soprattutto Maria Grazia si è occupata molto dell'architettura italiana tra 500 e 600, sull'architettura berniniana, sull'attentità dei cantieri anche berniniani e contemporaneamente anche sulla storia delle tecnologie, diciamo anche della costruzione dell'ingegneria tra fine 800 e la prima metà del 900. Attualmente, cioè attualmente ormai da tanti anni, sta studiando il baldacchino di San Pietro, su cui è scritto una monografia che credo che è uscita in questi giorni, quindi sono anche curioso di sentire qualche notizia, diciamo forse su questo, non lo so, però qual è poi l'argomento di cui tratterà oggi. Mentre Lorenzo Griego, anche lui, diciamo, è molto giovane, però con grande esperienza internazionale, perché sin dagli studi universitari ha collaborato con alcune università britanniche, è stato a Kent e studia praticamente tante cose, insomma, però sostanzialmente l'evoluzione delle tipologie ecclesiastiche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha studiato anche l'apporto, diciamo, dell'architettura nelle chiese cristiane nel Regno Unito e ha lavorato molto anche, diciamo, sulle nuove chiese realizzate a Roma, nel circondario, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella prima metà degli anni 50. Quindi si situa, diciamo, all'interno di una tradizione che è un po' esplosa in questo ultimo periodo, soprattutto, diciamo, nella costruzione delle chiese tra le due guerre. In Germania è molto studiato, c'è Luigi Monzo, Cristina Bese, Davide Spina, Zurigo e Lorenzo, insomma, si è inserito in questa cosa portando, diciamo, anche delle considerazioni piuttosto originali, lavorando appunto anche sull'aspetto costruttivo, che forse mancava in questa, diciamo, esplorazione che viene fatta anche dall'estero. Quindi, con grande, diciamo, felicità presento loro e il loro contributo si intitola Il glossario dei cieli lignei nei capitolati delle fabbriche del 500 e 600 romano. Sì, un'ultima cosa, è giusto, non posso non dimenticare, che sia Maria Grazia che Lorenzo o Greco hanno lavorato in questo grande lavoro sui cassettonati, sui cieli lignei, come loro li hanno chiamati, in questi ultimi anni, insieme con la professoressa Conforti, e tra l'altro c'è stata una mostra molto significativa e importante proprio a Firenze e agli Uffizi su questo aspetto dell'ingegneria, dell'architettura e della decorazione. Prego. Buongiorno a tutti e grazie al professor Bonaccorso per l'introduzione anche da parte della professoressa D'Amelio e grazie al professor Acchipinti e Castelletti per l'invito. Allora, il nostro intervento di oggi intende affrontare la nomenclatura dei soffitti lignei e specie per quanto riguarda la loro decorazione e il loro ornato. Una decorazione ornato che con vicende alterne si giostrano tra quella che è la natura aniconica dell'arte edificandi e la voracità invece ornamentale della pittura e delle arti con generi che tendono a colonizzare tutte le superfici dell'architettura. Prima di inoltrarci nel vivo del discorso è interessante soffermarsi su quello che è l'emma soffitto che è piuttosto ambiguo e scivoloso. Da suffixum, ovvero participio passato del latino suffiggere, indica un elemento affisso o appeso alla struttura sovrastante. Quindi soffitto è usato per indicare sia il solaio portante che il suo intradosso. Con i termini contignazio, Vitruvio indica il solaio con travatura linea che è composto da travicelli e tavole interposte. Con coaxazio, anche detta contabulazio da Cesare, indica l'intavolata posta tra la contignazio sottostante e il pavimentum sovrastante. Nel deredificatoria, Leon Battista Alberti denomina celum, ovvero soffitto, l'intradosso e pavimentum o tectura, cioè pavimento o impiantito, l'estradosso su cui si cammina il piano superiore. Il termine cielo è documentato anche nel Seicento. Per esempio, così è chiamato nei conti della fabbrica di San Pietro il piano ligno sull'altare papale, con la colomba dello Spirito Santo, raggiata d'oro, i girali e le arpie poste come ornamento. Il termine palco indica genericamente invece una struttura in legno che copre superiormente un ambiente. Attilio Schiapparelli, nella Casa Fiorentina, e i suoi arredi dei secoli XIV e XV, nota che a Firenze, ma anche altrove, così sono due tipi di coperture. Il palco reale, ovvero nel senso di strutturalmente portante, e poi i soffitti apparenti. In quest'ultimo caso, i lacunari sono appesi ai solari o direttamente alle capriate del tetto. Sebastiano Serlio, nel capitolo dei cenni piani di legname e degli ornamenti suoi, preliminarmente avverte il lettore che il lessico varia a seconda delle regioni. Quindi a Roma e a Firenze, ad esempio, i soffitti sono chiamati palchi, a Bologna e in Romagna si dicono tasselli, a Venezia si dicono tramamenti oppure soffittati. Il soffitto primario è generalmente un ordito di travi maestre, incastrate nei muri d'ambito, che sostengono travicelli ortogonali minori, sui quali sono fissate le tavolette di legno, che costituiscono lassito o tavolato. Le tavolette orizzontali, dette anche sbacchere, sansovine, pettinelle, cantinelle o coprivolvere, possono essere dipinte con decorazioni ripetute. Spesso stelle o fiori, mentre quelle inclinate, dette bussole, riportano spesso stemmi araldici, decorazioni vegetali, volti umani e mascheroni. Quando il giunto delle tavole che convergono insieme, che si dice appunto convento, è dissimulato dagli stelli linei, detti regoli a incasso, oppure staggette se hanno un rilievo considerevole, il solaio è detto a regolo per convento. Le travi maestre possono essere poi incamiciate da fonte travi a formare una scacchiera, detta appunto a cassettoni. I regoli, e a volte anche i controregoli, coprono i giunti ed evitano la caduta di polveri dal solaio, un inconveniente ricorrente, tanto che nell'atto medioevo il celebre Pier Damiani rammentava la consuetudine di foderare i soffitti dei monasteri con stoffe affinché non ne piova la polvere, dice Pier Damiani. Il cielo di un ambiente può anche essere indipendente, in vari gradi, dalla struttura portante, e può comprendere un controsoffitto appeso. La definizione di soffitto a cassettoni è spesso usata anche per quello che tecnicamente a un controsoffitto a lacunari. In affinità alla decorazione delle volte e delle cornici lapide, per lacunari si intendono i campi incavati che spartiscono l'intradosso delle coperture. La loro origine si rifà ai termini latini lacunar, usato da Vitruvio, e laquear, ricorrente invece in Plinio, Seneca e Sidero di Siviglia. Entrambi questi termini derivano dall'acus, lago o depressione del terreno. In tal caso, la geometria del controsoffitto può dissimulare l'orditura delle travi portanti, mediante fazze travi, fodere o accorgimenti ottici che sono volti a influenzare la percezione visiva della scatola spaziale. Lo svincolarsi dalla rigida maglia strutturale del solaio permette ai controsoffitti di adottare geometrie molto spesso complesse, o di realizzare ampie superfici piane ininterrotte. A partire dal 400, la contesa si svolge infatti tra l'ordine razionale, prospettico e astratto del cassetto natoligno, come nei cieli fiorentini di San Lorenzo e della Cappella dei Maggi, e l'istanza invece di una superficie ampia svincolata dalle griglie strutturali che può accogliere figurazioni ariose e trionfali. A questa pretesa dell'arte sorella, l'architettura talvolta si accomoda con ampie volte muratura che accoglieranno poi i fasti dell'era barocca come nella sala grande di Palazzo Barberini, talaltra adatta la struttura dei soffitti e dei controsoffitti linei alle esigenze encomiastiche ed espressive della pittura. Così i lacunari possono ospitare storie figurate, come nel soffitto rimontato in Campidoglio che include specchiature dipinte attribuite a Francesco Allegrini, raffiguranti alcuni episodi della Gerusalemme ribella liberata. Oppure i soffitti si configurano come tavolati continui dipinti o ancora si estendono sino a profilare tele sinuosamente incorniciate, al punto da dar vita a composizioni pittoriche di largo impianto che si dispiegano su tutta la superficie di copertura, trasformandosi in quadrerie orizzontali come nel caso dei soffitti veneziani o in grandi teleri dipinti come nelle illusionistiche pitture di Andrea Pozzo. Tornando ai lacunari linei, essi presentano delle geometrie spesso differenti. La geometria più diffusa derivante dall'ortitura delle travi è naturalmente quella quadrangolare, ma con lo sviluppo della tecnica essi assumono forme poligonali e mistiline sempre più complesse. I lacunari sono incavati da profondità graduate, sono impreziositi da cornici intagliati da gole, astragali, ovoli e dardi, dentelli, foglie d'acanto. I fondi sono contrassegnati da pigne, pendenti e concise in fluorescenze che resuscitano il vocabolario classico. Geometria, morfologia e spesso materia del soffitto a lacunari sono condivise da altri manufatti coevi, come se un divino universo geometrico avesse colonizzato ogni ambito creativo. I soffitti hanno ornamento in stucco, in carta pesta, in legno, sono dipinti e hanno rivestimenti in oro. La polimatericità che essi esibiscono testimonia mestieri sofisticati, molteplici e trasversali, secondo il gusto fastoso dell'epoca. Carpenteria, incisione, intaglio, scorniciatura, incastro, disegno, encausto, scultura, tarsia, arzatornandi, pittura, stuccatura, plastica e indoratura, intervengono molto spesso nella realizzazione di un soffitto. Le tecniche sono per l'appunto specifiche e il lessico per spicuo e non raramente mutuato dalle arti sorelle e congeneri. La mercurialità di tali componenti costruttivi e decorativi è colta in particolare dal poligrafo Tommaso Garzoni che nella piazza universale di tutte le professioni scrive Quest'arte ha grandissima similitudine con quella del fabbro, sia a causa del modello che nell'una e l'altra si ricerca, sì perché si estende a diverse materie. A lei si appartiene di sapere molte cose. Per costruire un lessico dei soffitti regionale e nel nostro caso nel patrimonio di Pietro le fonti consultate sono molteplici e vanno dalle norme che regolavano l'uso e il commercio del legno agli statuti dell'arte, dai trattati di architettura e di arte legnaria ai manuali, inventari e contratti di incarico e di acquisto, dalle ricette di colle, mestiche, vernici, abrasivi alle tecniche annotate nei contratti notarili fino ai conti di fabbrica e così via. Ad esempio, alcune voci sono desunte da un inventario di vendita di ferramenta et masserizie della bottega perugina di Legnaioli, altre da divagazioni erudite come quella di Garzoni, altre ancora da un taccuino secentesco conservato nella biblioteca laurenziana dedicato agli attrezzi oppure da alcuni vocabolari deputati. Molto utili sono altresì le perizie redatte ex post per valutare l'eredità, gli ammodernamenti eseguiti o i lavori di riparo da intraprendere. Ad esempio, nella perizia redatta in occasione della causa indetta dagli eredi del Cardinale della Valle per il possesso del suntuoso palazzo sulla via Papale, vengono misurati, descritti e valutati secondo la raffinatezza della fattura, i soffitti intagliati al piano nobile del palazzo. Limitatamente alle parole dell'ornato dei soffitti, la maggior parte di esse sono comuni alle lavorazioni dell'intaglio e alla nomenclatura delle modanature e degli ordini e più in generale dell'architettura, dai dentelli agli ovoli e dardi all'antemion, la straga, la perline fusarole, la chimation, la gola rovescia, la treccia e così via. Ma la diffusione dei tipi ornamentali dei soffitti è scrivibile in gran parte al testo di Serlio che assoggetta la percezione dei soffitti ai processi della visione, ovvero al rapporto tra le figure e lo sfondo, la prossimità e la somiglianza tra le parti e così via. Serlio è consapevole che la percezione è un processo che l'artista può controllare ricorrendo a quella che lui definisce come la prospettiva forzata, ovvero alla dimensione degli ornati e al colore del soffitto qualora l'artista architetto intenda aumentare illusionisticamente l'altezza della sala oppure la profondità dei lacunari. Questo espediente è adottato dallo stesso Serlio nel castello di Enzile Frank nel soffitto della Chambre des Arts, il soffitto che vedete nella foto è tutto pervaso da un decoro pittorico a racemi, girali e mostri fitomorfici, le cui dimensioni rimpiccioliscono passando dagli intradossi e dalle fodere delle travi sino ai coperchi o fondi dei cassettoni. Qui essi diventano più piccoli e di segno sottile in modo da far apparire il fondo del lacunare molto più lontano di quanto non sia nella realtà e la pervasività minuta intrecciata delle grottesche assume quindi un carattere tessile che in accordo con il gusto fiorito della tradizione francese le apparenta più alle decorazioni impresse sui corami oppure incise a bulino sulle armature da parata o ancora ricamate sulle stoffe che a quelle delle grotte romane ritratte dagli artisti rinascimentali. e in particolare nel capitolo dei cieli Sergio torna per tre volte sull'ornamento dipinto dei soffitti che gli prescrive sia esclusivamente di chiaro et scuro in un passaggio sostiene inoltre che le decorazioni debbano essere nei loro propri campi ben ombreggiate e illuminate e per questo saranno più lodate dagli intendenti che le fussero colorite perciò che le cose colorite si ricercano nei cieli voltati e ornati di grottesche la percezione visiva guida anche la successione e l'accostamento dei motivi decorativi nella sequenza di modanature dei lacunari l'artista raccomanda di alternare ornati fitomorfi e zoomorfi a elementi geometrici quali greche o meandri questa attenzione alla varietas rivela il debito di Sergio alla cultura figurativa medievale niente affatto obliterata dal nuovo gusto all'antica la tavola a correddo del capitolo che vedete nella foto compendia visivamente il repertorio descritto da Sergio grottesche con figure maschere arabeschi circonvoluti fogliami baccellature cancorrenti greche chima fitomorfi e mascheroni si avvicendano in bande grafiche elegantemente sovrapposte dal contratto per il soffitto della sala magna o sala grande di palazzo Mattei poi Catani a Roma si evincono inoltre termini soluzioni tecniche e formule consuete dei soffitti linei la sala del palazzo a un'altezza di circa 9 metri a cui si deve probabilmente l'anomalo freggio a doppia fascia affrescato da Paolo Brill e Cristofalo Roncalli nel 1598 il cardinale Girolamo Mattei affida allo scultore Pietro Paolo Olivieri l'incarico del soffitto alla Cunari il perimetro della sala è irregolare e la difformità è dissimulata dalla geometria del soffitto composto da 5 cassettoni quadrati 4 angolari e 1 centrale e da 4 cassettoncini che vedete nella foto meno profondi e pari a un quarto di superficie di quelli maggiori questi cassettoncini incorniciano dei rosoni e dei racemi intagliati e dorati la disposizione geometrica delle travi maestre è intagliata con un motivo denominato a chiocciola ovvero a doppia onda intrecciata saldata da minuscoli fiori passiamo a questa slide in cui si vede la corrispondenza tra il contratto stipulato dal farignome Giovanni Volpetta da Castiglione e dall'intagliatore Carlo Nuti e il controsoffitto eseguito che è un controsoffitto aderente ad un soffitto cinquecentesco di cui utilizza in realtà le modanature di bordo la descrizione del contratto della cornice dei lacunari può essere eseguita puntualmente nelle immagini con la sua sequenza dall'elemento più profondo a quello più esterno ed abbiamo appunto ovoli e lancette paternostro gocciolatoro senza intaglio gola fusarolo pianetto o intacca dentello goletta paternostro e il resto sul disegno di olivieri come recita appunto il contratto ognuno di questi elementi è in albuccio buono e ben stagionato dei grandi cassettoni vengono poi descritti i modani la cartella interna con le orecchie e cartocci con quella conchiglia che sta nel disegno come recita sempre il contratto come nei lacunari marmorei al centro spicca un plastico rosone e quattro aguile agli angoli al centro della composizione il lacunare più profondo accoglie lo stemma familiare scacchiera e aquila coronato dal galero cardinalizio con soggolo e fioccatura di nappe sparpagliata su due efebbici angeli scolpiti dice il contratto che si sono in tiglio robusto e vengono scolpiti di rilievo di tre quarti ma non tutta nelle prescrizioni contrattuali in particolare il restauro del galero ha svelato che esso è stato placato con una lamina d'argento inchiodata e laccata secondo la tecnica detta della meccatura in modo da conferire al cappello prelatizio a seconda del dosaggio della vernice riflessi che sono dorati e marezzati un successivo contratto con Andrea De Bartoli da Carignano fissa la doratura in oro fino ovvero in oro zecchino così come la pittura in azzurro di Biadetti di Spagna in sostituzione del costoso blu oltremare il cui pigmento deriva dal lapislazzolo e concludiamo con questa slide affermando che alla fine del nostro percorso tra le parole dell'ornato dei soffitti appare evidente che nel millenario passaggio dal legno alla pietra e ancora nel passaggio dalla pietra al legno rimangono invariate le forme le decorazioni e le cromie ma anche e soprattutto le parole e con questa slide vi ringrazio per l'attenzione